arriva il giovedì arriva il giovedì come sempre l'appuntamento puntualissimi qui alle 17 su radio swing set con infodemia oh yeah allora allora cara rosi oggi abbiamo prima di tutto diciamo come ci possono contattare dove ci trovano ci possono contattare tramite i nostri social siamo su facebook siamo su twitter siamo su instagram siamo su youtube invitiamo a seguire e iscrivervi al nostro canale youtube con tutte le nostre meravigliose puntate caricate in streaming prestazioni prestazioni sembra una cosa un po a sozza però vabbè abbiamo capito insomma il concetto ci possono anche scrivere su whatsapp al 327 53 290 58 brava e mandarci una mail a swing set tragic o gmail.com se volessero farlo vi invitiamo anche a visare il nostro sito www.radioswingset.com e seguire la sezione podcast brava 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 studiato bene e naturalmente radio swing set e anche tanta bella musica e noi cominciamo proprio con quella yeah e dopo la nostra meravigliosa musica roberto c'è la sedia che un po di svitò il c'ho la sedia che scricchiola come la mia schiena non era la sedia erano le ossa non era se croccante roberto croccante puntata numero 18 18 18 tema della puntata le vostre sbronze epiche giusto perché vogliamo rimanere nel caso umano in pratica perché è sempre così e allora nella nostra immensa cultura tutti parlano di cultura ultimamente noi no parliamo delle trashate più trash di questo e ma con tu ci fai un caso per dire e non ce ne frega proprio niente allora le sbronze epiche noi come sempre ringraziamo tutti gli utenti che ci hanno scritto ci avete sommerso è perché le sbronze ci avete sommerso di risposte bravi 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 continuate a farlo vorremmo qualche clip audio anche quelle se vi capitano non vergognate se non siete troppo imbarazzati tanto modifichiamo le voci tuteleremo la vostra privici comunque cominciamo appunto a parlare delle vostre sbronze epiche una persona ci scrive questa non è che mi ci rivedo però nel senso sono a dieta in questo periodo quindi magari la capisco anche in una delle mie tante sbronze ho constatato che per dimagrire non basta salire una sola volta le scale della chiesa puntini 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 breve storia triste ah e quante volte la saliva e scendeva le scale della chiesa praticamente mi ha spiegato anche in un messaggio esattamente cosa volevi intendere praticamente aveva era in dieta in quel periodo ok e le persone la perculavano dicendo se vuoi dimagrire devi salire le scale della chiesa ma hanno detto solo salire quindi lei ha salito le scale della chiesa e non è dimagrita e ma con la sbronza che c'è? perché ero ubriaca ah ok chiariamola sta cosa perché se no si capisce chiaramente andiamo con la prossima perché sono veramente tante sono veramente tante ho scoperto di avere il pollice verde durante una sbronza perché abbracciavo alberi fantastico sta cosa e anche questa è un evergreen è un evergreen di quella proprio piante e alberi fanno parte della sbronza almeno della sbronza di ognuno di noi sì insomma poi c'è un'altra che ci scrive quella che prenderò un giorno magari è il primo concerto che si potrà fare ah questa quella nota polemica perché giustamente chi non si sbronza i concerti ma siamo tutti un po' stanchi anche di stare in casa e tutto il resto teniamo duro ancora per un po' purtroppo come disse Rocco infatti come disse Sifredi tenete duro ancora per un po' va bene va bene noi teniamo tanto duro che vi rilegriamo con la nostra buona musica targata Radio Swing Set si torna si torna belli carichi belli carichi in trasmissione qui da noi Infodemia ogni giovedì ricordatevi anche la replica della domenica alle ore 17 parliamo di sbronze epiche parliamo di sbronze epiche ci scrive questo tente quest'estate oltre al mare fantastico bellissimo ho avuto a che fare con le sbronze dei miei amici ed era la parte che più preferivo onestamente perché mi divertiva sentire tutte le cavolate che dicevano che bello in particolare mi è capitato una volta di aiutare una mia amica che aveva bevuto troppo sino a vomitare e ricordo benissimo perché l'era sobria a quanto pare beh certo tutte le storie che mi aveva raccontato le sue paranoie riguardanti il ragazzo pensava che la stesse vivendo con una ragazza croata what the fuck e le vicende di quando morirono le sue tartarughe tarta e ruga originalissime e tutte le vicende collegate ai suoi cani risi per tutta la notte ha 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 allora a prescindere che tarta e ruga è una chiara citazione perché erano le tartarughe di Rocky Balboa e Rocky le aveva chiamate tarta e ruga le tartarughe come che codolone che chiama Philip Pino è il stesso concetto allora questa è la tipica sbronza quando prende male a chi ha la sbronza capito però tutti gli altri si divertono perché vedere uno che è disfatto che si lamenta oddio dopo un po' rampa il cazzo però all'inizio è divertente bella 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 andiamo con la prossima ci scrive un altro utente avrei voluto scrivere qualcosa sulle mie sbronze epiche ma non mi ricordo nulla fantastico questo vuol dire che l'hai presa bene l'hai presa bene l'hai presa proprio di coccia come si vuol dire dietro è infatti il cozzetto siete fantastici io ve lo devo dire vai prossima persona anche questa molto sensibile una volta ho pianto come una fontana perché ero sbronzissima in preciclo sorella hai tutto il mio appoggio davvero love and peace peace and love non rido dei suoi disagi perché sono anche i miei quindi davvero meno male che ci sei anche tu che scrivi le triste verità delle donne in realtà è bello perché l'alcol a una certa età naturalmente adesso non non incitiamo l'utilizzo dell'alcol per carità fatelo sempre in maniera responsabile non mettetevi alla guida non fate cazzate di questo genere però prendersi una sbronza come si suol dire aiuta a lasciare anche un po' i freni inibitori e quindi succedono queste cose che sono un po' un po' strane un po' che ne so come posso dire da ricordare ecco io ho bellissimi ricordi anche in effetti dopo ci sarà il momento confessionale mamma e papà di Rosi restate all'ascolto però prima però prima pubblicità si ritorna dopo una avvincente pubblicità e tanta bella cara musica ricordiamo che siamo noi i selezionatori di musica mi deve piacere per forza altrimenti tutto sul culetto infatti continuiamo a parlare delle vostre fantastiche sbronze epiche ci scrive questo utente ho tipo un mese intero di blackout perché attendevo con ansia il mio compleanno quindi la prima settimana ho bevuto come un russo perché era la mia ultima settimana da ventenne la settimana del mio compleanno idem perché appunto era il suo compleanno esatto quella dopo coincideva con il compleanno di una sua amica quindi che fai te ne privi di aggregi i festeggiamenti sostanzialmente il mese è finito e ancora non ricordo nulla di giochi da successo cioè praticamente ha un blackout totale di un mese questo qua si ha cancellato un mese dalla sua vita così come se si fosse rotto praticamente in hard disk lasciato nei fumi dell'alcol un mese praticamente sì ognuno per carità grandissima sorella le sbronze che ci piacciono sono queste ci scrive un altro carisce mutente sì una volta sulla spiaggia eravamo così ubriachi che un mio amico in ginocchio vicino al falò urlava io sono il fuoco e io alle tre di mattina vedevo sorgere il sole fantastico c'è proprio le allucinazioni visive addirittura ma ci vedevi draghi tipo gli unicorni ma io mi immagino l'amico magari in ginocchiato davanti al fuoco che faceva solo il fuoco solo il fuoco magari si bruciava anche a parello di tutto e di più di tutto e di più di tutto e di più davvero ci scrive sto selezionando sì seleziona pure sto selezionando una cosa no ce ne sono tantissime dobbiamo dirlo grazie grazie continuate così grazie di esistere davvero non stiamo scherzando non vi stiamo prendendo in giro grazie di esistere ci scrive quest'altro utente una volta eravamo ubriachissimi in macchina il mio amico ferma la macchina ed esce per fare pipì sì dopo 20 minuti non tornava e stiamo andati a cercarlo l'abbiamo trovato in piedi prono in avanti con le braccia tese verso il basso che cercava di rimettersi dritto a mo' di flessioni non giscendoci io mi immagino questo che da per cercava di madonna mia madonna mia e non ci dici un altro grande classico la sbronza ma non fatela perché può essere può essere pericoloso non perdiamo vita inutilmente chi l'ha fatta gli è andata bene noi questo è un messaggio che deve passare chiaro noi non siamo d'accordo su chi beve fate un po' come c'è scritto no tipo sul sulla Peroni c'è scritto tipo o bevi o guidi infatti bevi intelligentemente non usate un po' di cervello materia grigia come si suol dire cervello che si deve usare anche in altre occasioni tipo tipo adesso per ascoltare la nostra buona musica eh sì eh sì 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 sembra facile sembra facile però molte volte appunto come dicevo prima il lubriacarsi tira via i freni inibitori e diresti delle volte anche delle cose che non vorresti mai dire delle parole delle quali poi magari ti penti tipo che ne so calandrelle ma ti frego tutte le puntate ma perché sta diventando triste è bello che lei mi osserva come per dire ma dove minchia non dirlo dove minchia vuole arrivare no dove vuole arrivare col discorso vabbè dai sono falangine nostra dai smettila allora allora ne abbiamo ancora di sbronze epiche da certo 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 assolutamente sì ci scrive questo utente una volta ero talmente andata che non mi ricordo di essere entrata in un ristorante chiedendo esplicitamente di usare il loro bagno per sboccare mi hanno pure detto sì perché forse ci facevo pena ridevole lei non ce l'ho fatta un ragazzo conosciuto quella sera stessa pensato di aiutarmi mettendo i miei dita in gola senza riuscita chiaramente perché se non ce la fai da sola figurati con questo andava bene per gli appuntamenti no della settimana scorsa quando è la settimana scorsa la settimana scorsa per gli appuntamenti vabbè vabbè primo appuntamento che fa gli infilo due dita in gola per farla sboccare il giorno dopo ci scrive mi sono svegliata sul divano di una mia amica con il pigiama eppure struccata tra l'altro pensavo l'avesse fatto lei per me invece no avevo fatto tutto da sola avevamo giocato anche a burraco avevo pure vinto ma la mattina dopo non ricordavo assolutamente nulla di tutto ciò ma questa è la bellezza delle donne l'essere poliedriche non ricordarsene cioè sanno fare più cose multitasking ma poi non se ne ricordano quindi si ricordano le donne non si ricordano questo ma si ricordano precisamente se tu hai scorreggiato una volta in più a letto mi sembra giusto e te lo rinfacceranno non in quel momento per il resto della vita dopo 40 anni alla prima occasione perché siete perfide perché tu il 29 febbraio del 1958 hai scorreggiato sette volte invece che sei scusami se è poco avevi un'altra per questo avevi un'altra chi supporta li scorreggi no no vabbè sono cose fantastiche poi un giorno la faremo anche una puntata su queste su queste dinamiche di coppia magari dinamiche strane quelle dinamiche alla Sandra e Raimondo infatti infatti salutiamo Sandra e Raimondo dall'alto dei cieli siete stati fantastici ci avete voluto bene ma c'è una cosa che è ancora più fantastica senza nulla togliere Sandra e Raimondo per carità lungi da noi però la nostra buona musica con la pubblicità e arriva anche quest'oggi il momento confessione confessionale ringraziamo Alfonso Signorini per l'idea salutiamo Giulia che è stata eliminata quando non me lo ricordo quale è stata la settimana scuola quale è stata quella settimana lì insomma credo sia stato il 19 febbraio vabbè chi se ne frega assolutamente sì siamo più fighi noi del grande fratello ma vivremo comunque anche senza di lei all'interno della casa quindi allora momento confessionale parto io dai vai parti tu parti tu allora con un gruppo di amici un Ferragosto no forse San Lorenzo non mi ricordo appunto 14 partiamo bene 14 15 anni quindi ti parlo di quando i Flintstone cioè l'autobus lo guidava Fred Flintstone a piedi decidiamo di andare a Torre Canne ridente località in provincia di non mi ricordo dove sulla spiaggia per passare Falò sulla spiaggia quando si poteva ancora gli evergreen e partono parte la bisbocciata con alcol sai i primi approcci all'alcol mentre stavamo bevendo c'è qualcuno che ci dice guarda c'è una festa c'è un compleanno e noi andiamo a questo compleanno di un era la figlia di un famoso attore barese della quale non facciamo il nome per non beccarci denunce a distanza di anni ancora in vita quindi denunce fattivili evitiamo di prenderci le denunce ecco fatto allora andiamo entriamo all'interno di questa villa noi loro tutti vestiti in maniera elegante noi capirai dal Falò stavamo tutti insabbiati tutte le cose usciamo da questa villa dopo una serie di disavventure e ci cacciano e ci rincorrono per per la strada per per allontanarci e c'era un viottolo che dava poi sul mare oscuro buio che dava sulla spiaggia e noi ci addentriamo su questo viottolo e uno dei miei amici mi dice guarda dopo che avevamo seminato le persone mi dice guarda bello abbiamo un po' bene ho perso il portafoglio e io da bravo amico gli faccio non ti preoccupare te lo risolvo io torniamo indietro la strada a rischio di prenderci una fracca di mazzate andiamo indietro e penso sarà lì camminiamo su questa stradina buia e c'era una parete che dava una parete di confine e c'era questa macchia nera scura per terra io mi appoggio con una mano al muro al muro e faccio non ti preoccupare ho trovato io il portafoglio metto la mano e in realtà non era il portafoglio ma era un piccolo piccolo tesoro lasciato lì da un dinosauro penso ottimo ok allora niente 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 questo era il mio racconto ne hai uno veloce tu ne ho molto rapido la prima volta che mi sono ubriacata ricordo palesemente che mia madre avvicinandosi a me mi ha detto puzzi come una meretrice fantastica grazie mamma premio mamma dell'anno premio mamma dell'anno mamma dell'anno perché te l'ha detta ha detto che cacchio vai facendo e si continua si continua tanta buona musica Radio Swing Set siamo purtroppo giunti anche questa settimana alla fine della trasmissione mi dispiace tantissimo comunque anche questa puntata va via tra cacche di sinosauro e calandrelle quindi c'è una cosa incredibile passa il tempo che è una meraviglia ti sto odiando ti sto odiando chiaramente non è vero però però non si fa non è vero della calandrella non è vero che ti sto odiando però voglio dire non si fanno certe cose comunque noi vi rinnoviamo l'appuntamento per la diciannovesima puntata di infodemia giovedì prossimo sempre alle 17 sempre su Radio Swing Set di che cosa parliamo giovedì prossimo parliamo de aspetta che controllo aspetta che controllo aspetta che controllo perdi tempo perdi tempo vi ricordiamo anche che questa puntata andrà in replica domenica sempre alle 17 sempre su www.radioswingstat.com seguite chiaramente sempre tutti i nostri post su tutti i nostri social quindi facebook twitter youtube eccetera 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 ma in generale quelli che voi incontrate perché avete incontrato nella vita ma che davvero cioè ma sei proprio un caso sei uno scappato di casa veramente no ma nel senso ci sei o ci fai quelli che non sapete se ci sono o se ci fanno a me dicevano prima ci sei o ti fai la risposta e io partivo con no woman no crying allora allora diamo l'appuntamento naturalmente giovedì prossimo ore 17 replica domenica la stessa ora quindi sempre alle 17 perché ci piace comorario sempre su www.radioswingset.com se non l'avete ancora fatto scaricate la nostra fantastica applicazione disponibile sia per android che per ios quindi downloadateci downloadateci e iscrivetevi al nostro canale youtube sempre radioswings si chiama sempre radioswingset e visitate tutti i nostri cioè vedete tutti i nostri video e condividete bene 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 belli alla prossima ciao 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 ciao